Parto anch'io con i ringraziamenti doverosi, non di circostanza, assolutamente sentiti. Un primo ovviamente particolare ringraziamento a Vincenzo, il nostro Presidente nazionale, che ha creduto di affidarmi questo compito, un onere ma sicuramente un onore, lo ha condiviso con la direzione nazionale, quindi un ringraziamento per questo, la direzione nazionale e per tutto il lavoro che abbiamo svolto insieme. Un ringraziamento al Consiglio nazionale con cui abbiamo condiviso questo percorso, a tutti gli organismi dirigenti del territorio, a tutti i settori, le strutture di attività, le politiche, gli ambiti, gli uffici, i consigli regionali a cui abbiamo partecipato, 19 consigli regionali, molto partecipati, aperti, che non hanno visto solo la partecipazione appunto degli organismi e dei consiglieri, ma in quella che avevamo dato come libera diciamo organizzazione abbiamo visto tanti invitati, tanti anche dirigenti nuovi. Un ringraziamento ovviamente altrettanto sentito a Tommaso Dorati, responsabile dell'organizzazione e ad Enrica Francini, responsabile dei bilanci e consulenze, con cui ho condiviso questa responsabilità, il lavoro all'interno del gruppo e veramente ogni momento del percorso. E poi un ultimo ringraziamento, anche questo veramente non di circostanza, a questa platea congressuale chiamata oggi ad importanti adempimenti formali che saranno appunto la sintesi di un percorso svolto insieme e che questa sera appunto ci darà, ovviamente l'augurio e l'auspice è questo, il nuovo statuto. Non da ultimo ringraziamento a Francesca Colecchia e Alessandro Mastacchi di Arsea, con cui già all'inizio del percorso abbiamo condiviso opportunità, criticità del primo impianto, del primo articolato. Ultimo ma assolutamente non ultimo, un ringraziamento speciale, mio personale, Vincenzo l'ho già fatto ieri, quindi lo rifaccio anche a nome suo, mi premetto, a nome di Vincenzo, quindi di Tommaso, di Ingrica, ma vorrei condividerlo con tutti voi, il professor Luca Gori, lo anticipava Isabella ieri sera nell'apertura che non è qua con noi per problemi familiari, giurista costituzionalista, ricercatore, docente alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, istituto universitario pubblico a statuto speciale, come sappiamo, un punto di riferimento per il Paese ma non solo per l'Italia, punto di riferimento accademico a livello internazionale che opera nel campo delle scienze applicate, dalle scienze giuridiche a quelle economiche e manageriali, dalle scienze politiche sino alle scienze mediche e all'ingegneria industriale dell'informazione. Un istituto che ha l'obiettivo di sperimentare percorsi innovativi nella ricerca e nella formazione attraverso idee innovative da svilupparsi in collaborazione con università, aziende, enti, istituti di ricerca. Luca, lo chiamo così perché nel frattempo è diventato anche un nostro amico, un amico dell'UISP con la sua sensibilità che ha mostrato e con l'amicizia che ci ha regalato, coordinatore all'interno dell'istituto diritto politica e sviluppo dell'area terzo settore, sussidiarietà e regole, studioso di altissimo profilo e rigore, ci ha supportato e accompagnato, è il caso di dire proprio così, con grande attenzione e disponibilità nella revisione del nostro statuto nazionale, nella costruzione dell'impianto generale degli statuti da adottare a livello regionale e territoriale, ma non solo. Il rapporto instaurato con la Scuola Sant'Anne, infatti, che abbiamo formalizzato attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione, non termina oggi, non termina domani con il Consiglio, ma proseguirà anche nei prossimi mesi. Continueremo a confrontarci e ad approfondire il tema più ampio di quello che è proprio il titolo di questa convenzione che abbiamo sottoscritto con la Sant'Anne, studio e ricerca sulla riforma legislativa del terzo settore e sull'impatto della riforma nelle organizzazioni del settore sportivo. Un tipo di rapporto quindi di consulenza totalmente innovativo per la nostra associazione, un rapporto di appunto ricerca, studio ed analisi con il mondo accademico e della scienza e non come in passato esclusivamente, da un punto di vista strettamente giuridico, attraverso le consulenze, seppur importanti, di avvocati e studi legali. Questo ritengo che sia un primo aspetto importante da condividere, soprattutto per quello che ci aspetta, per il lavoro che aspetterà noi dirigenti di questa bellissima e grandissima associazione. Su tematiche come queste è necessario avere sempre l'approccio della ricerca, del ricercatore, continuare ad approfondire e interrogarsi, anche perché, e prendo proprio prestito le parole dello stesso professor Gori, la realtà va molto più veloce delle norme e le norme spesso faticano a tenere il passo perché guardano sempre al passato. Lo abbiamo vissuto tutti insieme in questi due giorni, quello che è stato il percorso della riforma legislativa del terzo settore. Vincenzo ieri nella sua ampia e puntuale relazione introduttiva ha ripercorso questi passaggi importanti. Riprendo alcuni punti perché penso che sia importante risottolinearli appunto nella visione non solo del lavoro di oggi ma proprio della visione prospettica del lavoro che ci aspetterà, anche su quello che dovrà essere un nuovo regolamento nazionale. È indubbio che al netto delle criticità di attuazione ancora in essere la riforma legislativa del terzo settore sia una riforma auspicata da tempo, fosse una riforma auspicata da tempo. Il terzo settore ha oggi finalmente un proprio riconoscimento giuridico e supera il vecchio regime di natura concessoria. È evidente, ce lo siamo ricordati anche ieri, che questa riforma traccia, una cornice netta in cui operare. All'Assemblea del volontariato di Lucca 2014 vennero presentate le linee guida della riforma, separare il grano dall'olio, separare i buoni dai cattivi. Eravamo dentro il clima di mafia capitale. E allora il tema della reputazione, della trasparenza, della pubblicità, della credibilità delle organizzazioni è mai come in questo momento centrale nel nuovo quadro normativo. Ora no, non basta più essere una organizzazione non profit, non a scopo di lucro e svolgere anche bene la propria attività. Bisogna collocarsi nel perimetro delle attività di interesse generale, godere sì quindi di importanti agevolazioni, ma dover poi ovviamente restituire in cambio trasparenza e rendendo quindi conto delle attività promosse ed organizzate. Luisa ha precorsi tempi, ce lo dobbiamo dire, io penso con orgoglio, sia nel rapporto con l'ordinamento più tradizionale di riferimento, l'ordinamento sportivo, sia nel rapporto col proprio impianto statutario e regolamentare interno. Si pensa ad esempio alle nostre disposizioni sulla gestione amministrativa, il nostro regolamento nazionale amministrativo gestionale, a partire da tutti gli adempimenti sicuramente pesanti, ma pensiamo alla redazione dei bilanci, la loro pubblicazione. Abbiamo anche in questo precorsi tempi e oggi come dire godiamo sicuramente di un vantaggio importante. Sin dal primo giorno di avvio di quella riforma, di questa riforma, ci siamo confrontati ogni giorno mantenendo sempre un approccio coerente con le reti sociali nazionali del territorio, col sistema sportivo, col forum nazionale del terzo settore, oggi organismo di maggior rappresentanza del terzo settore in Italia, dell'intero Paese, nei suoi organismi, a partire dall'Assemblea, il coordinamento, l'esecutivo, all'interno ora del Consiglio nazionale del terzo settore, con forze parlamentarie di governo con cui abbiamo avuto opportunità di interloquire come Presidenza nazionale, come direzione, sino ad arrivare agli altissimi momenti di confronto col Presidente della Repubblica. Un percorso quindi lungo e partecipato, che partiva da una domanda, come dire, che anche in tempi non troppo lontani ci riformulavamo spesso, coni o terzo settore. Lo stesso Luca Gori, in apertura del recente convegno, svoltosi presso la Sant'Anna di Pisa, alla presenza del direttore del ministero del terzo settore delle politiche sociali, del ministero del lavoro, Alessandro Lombardi, pone una domanda. Ha un senso continuare a dibattere se lo sport deve stare fuori o dentro il terzo settore? O lo è sempre o non lo è? Abbiamo sentito Gabriele Seppio in apertura questa mattina dei lavori. Cosa ci ha detto? Mettiamo quella E accentata tra sport e terzo settore. Direi che oggi, come dire, la mettiamo veramente con forza, una volta per tutte. Lo statuto che come presidenza nazionale e direzione abbiamo consegnato a questa platea congressuale, è uno statuto quindi che come mai ci può far dire l'UISPA è un'associazione di promozione sportiva che sta nella promozione sociale. Non perdiamo di vista quindi lo sport, assolutamente, anzi. Liliana Grasso, direttrice di Acuma associazione, capo staff del progetto all'interno di luoghi ideali di Fabrizio Barca che ha portato avanti questa analisi importante su tanti nostri comitati, diceva che le due vecchie anime della UISPA, quella sportista e quella sociale, sono diventate un'anima unica. Penso che anche questo sia estremamente importante. Dicevo di questo lungo percorso veramente arricchente per Vincenzo, per me, per Tommaso, spero per tutti i consiglieri, i dirigenti che hanno partecipato appunto degli appuntamenti dei consigli regionali e direi appunto con tutta l'UISPA sul territorio, durante questi appuntamenti abbiamo affrontato la complessità sicuramente della fase politica, economica e sociale, tenendo alta l'attenzione sulle novità normative che stanno interessando il sistema, in una fase storica, lo abbiamo ripetuto più volte insieme, inedita e particolare. Abbiamo registrato un interesse molto molto elevato, ci siamo confrontati nel merito, abbiamo soprattutto ascoltato, raccolto suggerimenti, stanze, bisogni e proposte. Un lungo percorso quindi democratico, ben lontano dalle tradizionali commissioni statuto, da ultima notte di congresso o poco più, tra bozze che giravano se giravano tra pochi, che ha evidenziato altresì una consapevolezza diffusa del doversi misurare con il cambiamento, con le criticità e soprattutto però con le opportunità di questa fase. Come vicepresidente ho sempre cercato di tenere in questo percorso, insieme, con attenzione e impegno le esigenze più squisitamente di carattere politico associativo, con quelle più tecniche e più strettamente giuridiche. Dicevamo un lungo percorso, 18 giugno 2018 abbiamo avuto il primo incontro con Vincenzo, con Tommaso, con Enrico, col professor Luca Gori, iniziata soprattutto una fase di studio del professor Gori proprio su quello che eravamo, su quello che siamo. Ne sono poi succeduti molti a livello anche seminariale. 11 gennaio, 9 maggio, percorso il periodo che è intercorso dal primo consiglio regionale della Toscana, sino all'ultimo consiglio, se non scordo male, con il regionale del Trentino Alto Adige. 19, anzi 20 incontri, perché poi essendo partiti molto in anticipo con l'appuntamento della Toscana, la presidenza della WISP Toscana ci ha chiesto appunto di essere come presidenza nazionale nuovamente presenti. Quindi 20 incontri con i consigli regionali. 23 febbraio in direzione nazionale abbiamo discusso e approvato la proposta di convocazione dell'Assemblea nazionale, il 2 marzo abbiamo incontrato anche su questi temi i responsabili delle strutture di attività, il 3 marzo in consiglia nazionale abbiamo approvato la delibera di convocazione, quindi formalmente convocato questo appuntamento dando appunto comunicazioni sullo statuto e sul programma di lavoro e approvando l'iter che ci ha portato oggi qua. 16 maggio in direzione nazionale abbiamo discusso la bozza grezza di statuto, il 2 aprile terminava, diciamo avevamo fissato la scadenza di presentazione degli emendamenti da parte dei componenti della direzione nazionale, poi via via 5 aprile direzione nazionale che ha deliberato la proposta inviata a tutti i delegati attraverso i regionali e poi ancora 17 maggio la riunione della conferenza dei presidenti regionali in compresenza con la direzione nazionale. Il 20 maggio questo appuntamento nazionale a Firenze seminariale sulla riforma legislativa e del terzo settore dell'ordinamento sportivo alla presenza dei nostri presidenti regionali ma anche dei responsabili e dei referenti delle nostre consulenze. Per arrivare al 7 giugno l'ultima direzione nazionale, convocata anche questa in compresenza con i presidenti regionali o meglio con la conferenza dei presidenti regionali che ha espresso appunto il parere sugli emendamenti presentati. Quindi un percorso veramente molto aperto, molto partecipato. Ringrazio veramente formalmente anche la conferenza dei presidenti regionali e penso che anche questa impostazione di aver avuto incontri in compresenza con la direzione nazionale abbia, come dire, sia stata estremamente proficua. Non molti sono stati gli emendamenti che abbiamo ricevuto dai delegati, dai nostri dirigenti e tra i non molti emendamenti ricevuti alcuni, dopo esserci confrontati nel merito all'interno appunto penso soprattutto dell'ultimo appuntamento di direzione conferenza dei presidenti regionali, sono stati ritirati. Un ringraziamento ai delegati che avevano espresso legittimamente emendamenti, un ringraziamento non perché, come dire, ci aiuteranno nel lavoro, faremo prima questa sera, assolutamente no. Un ringraziamento per l'approccio che hanno avuto e parlo, lo devo dire anche in questo caso facendo nomi e cognomi, di Mauro Rozzi, presidente regionale dell'Emilia Romagna, di Lorenzo Bani, presidente regionale della Toscana, con cui ci siamo confrontati nel merito di alcune anche sollecitazioni, alcune che, come dire, sono state, diciamo, spiegate appunto nel merito rispetto a quello che la legislazione dell'ordinamento sportivo del terzo settore ci richiede, ma altri con un'assunzione, diciamo, di impegno da parte di quei due organismi, da parte del nostro presidente nazionale, quindi sulla condivisione della necessità di approfondire alcuni temi, quello della partecipazione diffusa, quello quindi del riuscire insieme ad aumentare la partecipazione diffusa sul territorio, i nostri dirigenti penso soprattutto anche delle strutture di attività e di come andare a delineare la necessità di approfondire alcuni altri temi, nello spirito della massima collaborazione tra i livelli. Nuove opportunità che il codice del terzo settore e quindi da oggi, diciamo, potremmo dire questo nostro nuovo statuto ci darà, come quello dell'assistenza tecnica, che non vuole essere assolutamente una nuova fattispecie, un nuovo strumento di verifica controllo, tutt'altro, anzi, vuole essere proprio sfruttando le prerogative del codice un ulteriore strumento che possa, come dire, prevenire situazioni, come dire, più pesanti e situazioni anche di commissariamento, sappiamo bene noi tutti che, come dire, quanto veramente, fatemi dire così, quanto anche dolore ci sia quando un organismo, in questo caso la direzione nazionale, su indicazione anche di nostri comitati è chiamata, sussistendono le condizioni statutari a doverlo assumere. C'è un percorso, anticipavo prima, veramente, che ci dovrà trovare tutti i protagonisti da lunedì in poi sulla costruzione del nuovo regolamento nazionale. In diversi interventi di voi delegate e delegati ho sentito, mi ha fatto estremamente piacere, come dire, rimandi al fatto che non stiamo solo modificando uno statuto come potevamo fare in passato, come dire, per semplicemente adeguarci a norme. Stiamo proprio dando, come dire, un nuovo vestito alla nostra associazione, tenendo ovviamente barra dritta sulle nostre prerogative, sui nostri 70, anzi ormai 71 anni di storia. Però a maggior ragione dovrà essere fatto un lavoro sicuramente ancora più diverso, cioè diverso da quello che eravamo abituati a fare sul regolamento nazionale e penso anche a quello che sarà, dovrà essere il nuovo codice etico. Una maggiore declinazione di opportunità e coinvolgimento dei settori e dei nostri dirigenti. Avete trovato in questo documento, in cartella, se non ho contato male, 59 emendamenti denominati presidenza nazionale, semplicemente ovviamente questa responsabilità l'assunto alla presidenza nazionale rispetto al gruppo di lavoro, quindi formato da sottoscritto, da Tommaso, da Enrica con la supervisione e la guida costante del professor Gori, frutto del lavoro dal 5 aprile ad oggi di letture, di riletture, di confronto, alcuni emendamenti ovviamente che fanno arrivare a questo numero in maniera importante, sono veramente alcune volte correzioni di punteggiatura. Quattro rimangono gli emendamenti con riferimento alla presentazione diretta di delegati, Mauro Rozzi, Lorenzo Banni che citavo prima e uno doppio unito, concetta sapienza Lorenzo Banni. Nella prima direzione, dovremmo iniziare a dettarci anche un po' di tempi, quindi nella prima direzione nazionale successiva a questa assemblea inizieremo quindi un percorso che ci dovrà portare ad una prima bozza grezza del regolamento su cui lavoreremo all'interno della cornice ovviamente della legislazione di riferimento e delle norme statutarie perseguendo il massimo coinvolgimento dell'associazione dei suoi organismi a partire dal Consiglio nazionale. Ci siamo mossi da subito con degli obiettivi ben precisi, continuare ovviamente a mantenere il riconoscimento di ente di promozione sportiva nel rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo CONI, ovviamente non entro ovviamente nel merito del dibattito di oggi e comunque di quello che anche Vincenzo ci ha stratteggiato rispetto ai punti di domanda legati a sport e salute e alla riforma diciamo che ad oggi potremo definire solo come riforma del CONI. Noi oggi ci saremo trovati sicuramente oggi o comunque in questo periodo a svolgere l'assemblea congressuale della WISP indipendentemente dagli obblighi che ci sono arrivati dalla riforma legislativa del terzo settore, questa associazione da sempre è abituata al di là delle denominazioni che magari nel corso degli anni sono cambiate, l'assemblea di organizzazione, l'assemblea di metà mandato perché avremo comunque svolto questo appuntamento importante per noi a metà del mandato perché comunque lo avremmo dovuto svolgere per adeguare il nostro statuto alle norme dell'ordinamento sportivo, alle norme della legge 8 2018 che ha modificato il decreto legislativo 242 del 99 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli organismi sportivi nazionali. Sostanzialmente la norma che riporta la previsione per cui i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati vincolo che quindi lo statuto fissa sui componenti delle giunte. Con una riferimento ben preciso di una circolare a firma del segretario nazionale del CONI Carlo Mornati che ci ricordava che entro il prossimo 30 giugno qualora gli organismi sportivi nazionali non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni il CONI previa di fida nomina un commissario ad acta che vi provvede entro 60 giorni dalla data della nomina. Quindi questo adempimento l'ho voluto sottolineare al di là degli altri nostri obblighi e al di là delle nostre decisioni di percorso. Uno statuto per la parte di adeguamento al CONI e per la parte ovviamente di perseguimento, di mantenimento e di riconoscimento di ente di promozione sportiva che abbiamo portato nella direzione nazionale che ha licenziato la bozza già con il parere favorevole del CONI. Con l'atto formale sottoscritto dall'avvocato Antonello De Tullio che ringraziamo, responsabile attività per la segreteria generale statuti e regolamenti che si è sempre rapportato con la nostra associazione, in questo caso in modo particolare con il lavoro di Tommaso sempre con grande attenzione e disponibilità. L'UISP del resto, questa associazione nel corso delle ultime due assemblee congressuali che hanno portato a modifiche statutari ha già fatto un lavoro grande rispetto ai temi della riforma del CONI, di adeguamento alle linee guida degli statuti e dobbiamo dire che l'avvocato Antonello De Tullio, ma diciamo il CONI in generale, è stato sempre molto attento ai nostri tempi, molto attento anche al fatto di essere un'associazione grande, complicata, complessa e molto eterogenea. Altro obiettivo, mantenere il riconoscimento di associazioni di promozione sociale, ovviamente non solo per il livello nazionale, per tutti i livelli alla luce appunto del decreto legislativo 117-2017 che conosciamo tutti meglio come codice del terzo settore. Quindi uno sport, diciamo già prima, che sta dentro il terzo settore a dispetto di tutti o di tanti. Gabriele Seppio, riprendo il quadro veramente preciso che ci ha dato questa mattina, consulente del Ministero, rappresentante del Ministero del Lavoro all'interno del Consiglio Nazionale nel terzo settore, uno degli estensori della riforma. Ma negli ultimi settimane ci siamo anche confrontati con altre posizioni molto importanti, quella per esempio del professor Antonio Fici, un altro estensore, un altro professionista esperto, docente di diritto privato all'Università del Molise, che attraverso anche quella pubblicazione di Icon, terzo settore sport e di diritto antistico, come dire, negli ultimi settimane ha contribuito a alzare l'attenzione su quella che era già la nostra convinzione, lo sport è terzo settore. Oltretutto sono tutti i professionisti, ovviamente, che si aggiungono al lavoro che richiamavo prima, col professor Luca Gori, con cui da lunedì rinizieremo un'interlocuzione che appunto non è mai terminata, c'è un lavoro da portare avanti, c'è un impegno del nostro Presidente Nazionale all'interno della Commissione proprio su queste tematiche all'interno del Consiglio Nazionale del terzo settore che sarà coordinata proprio in ambito ministeriale. E poi avevamo sicuramente da superare una situazione un po', come dire, chiamiamola ibrida anche e soprattutto alla luce delle riforme. Abbiamo, come dire, fino a questo momento uno Statuto Unico Nazionale che ci garantisce unitarietà all'Associazione, ma abbiamo poi 141 codici fiscali, quindi 141 comitati di fatto costituiti con una propria soggettività giuridica, 141 codici fiscali e quasi altrettante partite IVA, comitati sino ad oggi riconosciuti come PS in virtù della legge 383 del 2000 e del riconoscimento derivante dall'iscrizione all'albo nazionale, con situazioni anche molto eterogenee di iscrizioni ai registri regionali e provinciali. I nostri comitati quindi a tutti i livelli avranno sicuramente una loro più chiara e lineare fisionomia giuridica all'interno di un quadro complessivo nazionale unitario. E poi a questo punto ovviamente l'altro obiettivo è quello di perseguire altre opportunità che ci arrivano dal codice del terzo settore, in questo caso parlo ovviamente dell'articolo 41, quindi la prerogativa di rete associativa nazionale, per una UISP che da sempre, sin dalla sua Costituzione, svolge di fatto, al di là del riconoscimento formale e normativo, funzioni tipiche di rete associative, quella del coordinamento, della tutela, della rappresentanza, della promozione, del supporto, a cui ovviamente vanno aggiunte le funzioni di controllo e autocontrollo e quindi tutti i temi dell'etica, della trasparenza, delle regole, del rispetto delle regole, della credibilità, della reputazione. Ovviamente ci sarà necessità di un monitoraggio costante, tutto il tema che dovremo impiantare sul livello nazionale ma anche all'interno di quelli che saranno i comitati che supereranno i parametri che conoscete rispetto ai volumi dei bilanci, sull'impatto sociale e sul bilancio sociale. Però le reti associative, oggi, come dire, sottolineiamo anche questo aspetto, sono affidati, la legge affida compiti molto importanti, importantissimi, che in alcuni casi arrivano addirittura ad affiancare, a sostituire le pubbliche amministrazioni nello svolgimento appunto delle attività di controllo e per noi di autocontrollo. L'assistenza tecnica, che richiamavo già prima, dovrà essere uno dei punti centrali del lavoro di costruzione del nuovo regolamento nazionale, con il territorio e penso in modo particolare i nostri comitati regionali che dovranno essere sempre più snodi concreti della nostra rete associativa, comitati regionali che stanno maturando nell'attenzione e nel rapporto con le rappresentanze regionali dei forum, con i livelli regionali e territoriali dei centri di servizio al volontariato. C'è e ci dovrà essere un lavoro di accompagnamento del territorio, a partire dai nostri stessi comitati, sino alle nostre associazioni e società sportive, nel caso ovviamente del tema riforma del terzo settore, delle nostre associazioni che decideranno di qualificarsi e di entrare all'interno del registro unico nazionale come ASD-APS, di quelle che già ad oggi ci sono. Vediamo questo percorso importante non solo da un punto di vista di onerosità, sicuramente ci sarà un lavoro da portare avanti, oneroso, ma anche queste saranno opportunità, potrebbero essere trasformate proprio anche in opportunità, pensiamo di erogazioni di servizi e noi abbiamo sul territorio anche esperienze già consolidate che non potranno essere ampliate. E poi da ultimo, ma non è un tema che abbiamo attenzionato solo come c'è anche questo, no, penso ovviamente al tema della personalità giuridica, ma penso soprattutto a un tema più generale di attenzione alla tutela dei nostri dirigenti. Su questo, come dire, ci siamo arrivati con anche una riflessione, un dibattito, appuntamenti, incontri con i comitati che sono per loro natura più sensibili a questa necessità. L'articolato che consegniamo oggi a questa assemblea e gli articolati rispetto agli statuti tipo di comitato territoriale e comitato regionale che consegneremo domattina al Consiglio nazionale vanno proprio in questo percorso, in questa strada. Abbiamo quindi lavorato molto, con attenzione tutti insieme, con una importante convinzione che abbiamo sempre avuto dal primo momento. Lo statuto è valore politico del nostro protagonismo responsabile. Uno statuto che è formato da nove titoli, 43 articoli, con un articolato che appunto ci consegna, noi crediamo, uno statuto molto più fruibile, molto più chiaro nella lettura, molto più veramente strumento quotidiano della nostra azione. Un articolo 3, ecco, faccio proprio un volo molto veloce fra alcuni articoli che penso che siano molto importanti, comunque fondamentali. Fini attività, forse l'articolo che però nel dibattito anche all'interno dei consigli regionali a volte suscitava, come dire, minori interessi, io penso che lì ci sia il cuore veramente della nostra associazione, soprattutto di quello del lavoro che dovremo sviluppare. Quindi la declinazione di tutte le attività di interesse generale che potremo andare a svolgere con un'altra, come dire, consapevolezza che però dobbiamo maturare sempre più. Al legislatore interessa non tanto il chi fa, ma il cosa fa, soprattutto il come, il perché. Si passa quindi da elementi, diciamo, di natura soggettiva ad elementi estremamente oggettivi. Gli enti del terzo settore, parliamo così genericamente, ma arriviamo a pure, ovviamente, subito alle nostre APS, quindi ai comitati, a partire dal nazionale, passando attraverso i regionali, arrivando ai territoriali, che saranno qualificati associazioni di promozione sociale, quindi enti del terzo settore, ma con la qualifica di APS, dovranno possedere, sì, specifici requisiti statutari, ma dovranno anche svolgere effettivamente le attività di interesse generale, in coerenza con le proprie finalità. Qua ritengo, riteniamo, che ci sia una partita grandissima da giocarsi, un'opportunità ulteriore di sviluppo delle nostre attività, dei nostri settori di attività, nel rapporto con le politiche e nel rapporto circolare con il territorio. Claudia Fiaschi, se ho preso bene gli appunti, ieri ci diceva la riforma è grande occasione per riaggiornare la missione degli enti del terzo settore. La riforma amplia i campi di attività. E poi l'articolo 4. Oggi Gabriele Sepio è entrato sull'articolo delle attività diverse. Anche questa sarà una grande opportunità. se la possibilità di esercitare attività diverse da quelle per noi appunto evidenziate dall'articolo 3 del nostro statuto, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri che il Ministero dovrà fissare. Un titolo terzo del nostro statuto che mette in evidenza quelli che sono i nostri livelli, territoriale, regionale e nazionale, con una scrittura appunto di un articolato che in maniera chiara e netta mette in evidenza i diversi compiti dei livelli, ovviamente diversi compiti dei diversi livelli che gli statuti rispettivamente territoriali e regionali riprendono. Sul regolamento codice etico, dicevo prima, con un'ulteriore specifica per quanto riguarda il codice etico, che dovrà essere riaggiornato, che dovrà essere rivisto nel pieno rispetto delle linee guida per quelle che sono le linee guida licenziate dal Forma Nazionale del Terzo Settore, ossia linee guida per un codice di qualità e autocontrollo per gli organismi del Terzo Settore. Un documento che dovrà contenere quindi l'insieme dei diritti, dei doveri, delle responsabilità nostre dell'organizzazione nei confronti di tutti i portatori di interesse e dell'interesse generale. Il codice di qualità e autocontrollo dovrà quindi costituire un profilo di riferimento strategico, il divieto di comportamenti in contrasto con le disposizioni legislative, con i valori deontologici e con l'etica associativa, la garanzia di un elevato standard di capacità di azione di risposta ai bisogni della nostra rete associativa, delle nostre comunità, l'elemento cardine della reputazione e della rendicontazione dell'organizzazione, quindi temi che ritornano sempre. Un articolato ovviamente che anche per quanto riguarda gli organi di controllo e di garanzia riporta appunto tutti i riferimenti normativi, quindi pensiamo dall'articolo 29, l'organo di controllo che è previsto dal codice del Terzo Settore che sostanzialmente va a sostituire quello che noi abbiamo sempre conosciuto come collegio di revisori contabili con delle compiti diciamo ben precisi dati dal codice. L'assistenza tecnica, ecco dicevo prima, sottolineo solo un altro aspetto, l'aspetto proprio della collaborazione, questo strumento dovrà essere e sicuramente sarà un aspetto, uno strumento importante nella logica della collaborazione, potrà aiutarci a sviluppare all'interno della nostra ampia rete associativa nazionale anticorpi e strumenti non per lavarsi i panni sporchi in casa ma diciamo per prevenire quelli che poi legittimamente potranno essere i controlli delle pubbliche amministrazioni eventualmente di ulteriori enti accertatori. Articolo 33, assistenza tecnica, proprio anche nell'articolato viene prima dell'articolo 34, scommissariamento, su questo dicevo prima uno strumento che dovrà essere sempre più, cercheremo appunto anche nell'articolato del regolamento che dovrà entrare nel merito della costruzione della nostra rete associativa che possa essere sempre più uno strumento estremo di reazione a situazioni di particolare gravità. Dicevo prima della personalità giuridica quindi nell'articolato troviamo anche i riferimenti per un unico modello di statuto e che quindi sia conforme anche per quanto viene richiesto per esempio in tema di ricorso, di possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria nel caso di provvedimenti di esclusione da socio, la possibilità di richiedere la convocazione del Consiglio in seduta straordinaria per temi specifici su richiesta di almeno un decimo dei suoi componenti e ovviamente ci auguriamo che non si debba mai arrivare a questo, lo scioglimento dell'UISP che in quel caso debba essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli eventi diritti al voto. Stefano Bonaccini nel suo contributo video molto interessante diceva abbiamo le carte in regola per lavorare su coprogrammazione e coprogettazione, direi che anche noi in un video diciamo virtuale di risposta Stefano potremmo dire così, rispondere così, anche noi e quindi questo statuto ci consegna opportunità e strumenti per lavorare sulla sussidiarietà orizzontale, articolo 55 del codice del terzo settore, coinvolgimento degli enti del terzo settore, articolo 56 convenzioni su cui ovviamente siamo sempre molto attenti nel rapporto anche con il forum sul tema parere del Consiglio di Stato, articolo 72 che abbiamo richiamato più volte in questi due giorni, quindi il fondo per il finanziamento dei progetti di attività e di interesse generale nel terzo settore rispetto agli accordi sottoscritti tra Ministero del lavoro e della pubblica amministrazione e vedo, ho visto in questi mesi, ragionavamo soprattutto con Tore Farina, responsabile delle politiche del terzo settore, quanto sia stata, come dire, sia aumentata l'attenzione dei nostri livelli regionali su questo perché non ci sono solo i fondi nazionali a cui guardiamo con molta attenzione, in questo caso come livello nazionale, ma c'è tutta la partita dei fondi nazionali che poi arrivano al territorio attraverso gli accordi del Ministero con le regioni. Centri di servizio al volontariato, dicevo prima, si apre, come dire, una nuova stagione in termini anche in questo caso di opportunità e di accesso ai servizi. C'è il tema dell'armonizzazione che va avanti, dicevo prima, citavo l'esperienza del tavolo presso il Ministero del Lavoro, coordinato da nostro Presidente nazionale. Vado velocemente a chiudere con una proposta, diciamo, con formalmente un ultimo emendamento che non è contemplato dall'articolato presente in cartellina, su cui abbiamo ragionato proprio nelle ultime ore con Luca Gori, quindi la proposta è quella di inserire all'interno delle norme transitorie, come ultimo comma delle norme transitorie, una previsione, ripeto concordato col Professor Luca Gori, che ci possa consentire, possa consentire alla WISP nazionale, a quelli che saranno appunto i livelli formalizzati territoriali e regionali, eventualmente di poter, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, quanto riguarda ovviamente il livello nazionale, il Consiglio nazionale WISP deliberando maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, può modificare il presente statuto esclusivamente in ricepimento di norme inderogabili che rendano obbligatorio l'adeguamento dello stesso. Siamo, abbiamo seduto oggi, come dire, in una fase sicuramente che vedrà, potrà vedere, ecco, arrivare nuove interpretazioni o anche nuove norme attraverso le circolari attuative che stiamo attendendo, quindi una, diciamo, norma transitoria di tutela dei nostri livelli e quindi che ci possa mettere, diciamo, semplicemente, a virgolette, dico semplicemente ma norma importante, nella condizione, ecco, dandoci un lasso, come dire, una scadenza temporale, entro 24 mesi di potere all'interno quindi dei rispettivi consigli adottare con, appunto, adottare eventuali norme, ripeto, inderogabili che potremo essere chiamati ad assumere rispetto al recepimento di, appunto, di norme inderogabili. Per quanto riguarda, ovviamente, prerogativa, non voglio rubare il ruolo, le responsabilità, i compiti alla presidenza di questa assemblea, che ringrazio, per quanto riguarda, appunto, le, diciamo, le procedure, le modalità di approvazione formale dello statuto che ci troveremo, appunto, ad effettuare, a seguire dopo la pausa della cena. A nome della presidenza della direzione nazionale, chiedo, appunto, alla presidenza dell'assemblea di poter poi procedere all'approvazione dell'articolato statutario, tenendo conto delle norme che richiamavo prima, dell'iter deliberato dal Consiglio nazionale del 3 marzo scorso, dando lettura dei singoli articoli e dei relativi emendamenti già presentati, sui quali all'unanimità la direzione nazionale, unitamente alla conferenza, in compresenza della conferenza dei presidenti regionali, ha dato il proprio parere. Grazie a tutte e a tutti. Grazie. Grazie.